Buon pomeriggio, grazie. Sto per dire una cosa che probabilmente sarà ovvia, ma certamente per me oggi è un onore aprire questo convegno a nome del direttivo dell'OCI, qui organizzato a Milano mirabilmente dall'Ordine dei Dottori Commercialisti in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Milano. Prima di dare doverosamente la parola alla padrona di casa, alla Presidente Caradonna, che già ringrazio ma lo farò in maniera più approfondita dopo, consentitemi di rappresentarvi un episodio che racchiude quello che per noi oggi, dieci anni dopo, rappresenta l'osservatorio. Dieci anni fa, alle prime riunioni di un gruppo di magistrati che credeva in questo progetto, nel corso di una riunione eravamo all'Ordine di Roma, dei Dottori Commercialisti, Massimo Ferro, in maniera lungimirante, sottolineava che uno dei problemi che avremmo avuto nell'organizzazione di questa associazione per colleghi e per i professionisti, sarebbe stato appunto quello di trovare degli sponsor che avessero avuto l'intenzione di investire per consentire a dei giudici, disse Massimo, probabilmente visionari, di sedersi intorno a un tavolo e consentire loro di ragionare e riflettere. Stamattina mentre pensavo a come aprire questa sessione di lavori ho pensato in un attimo che probabilmente, anzi certamente, nessun investimento è stato così altamente remunerativo se oggi quel manipolo di giudici ha potuto realizzare quello che è la vostra numerosissima partecipazione e testimonia e io a nome dell'OCI vi devo ringraziare. Grazie di cuore. E allora, Presidente Caradonna, Marcella, devo cedere la parola a una perfetta padrona di casa perché grazie all'ordine dei dottori cominciosi di Milano, grazie a te specificatamente è stato possibile realizzare questo evento, è stato possibile che noi dell'osservatorio oggi potessimo sedere a fianco a te, a fianco ad Alida che è una carissima collega e che è da sempre al nostro fianco e da cui personalmente ho imparato tanto ma è un nostro riferimento, è un lume del diritto fallimentare. Ma è questo, dico l'ovvio, quindi io cerco di evitare l'ovvio e il notorio. Il notorio si dice negli atti processuali che è acquisito automaticamente dagli atti del processo, quindi non va dimostrato. Quello che ho detto è notorio. Quindi do la parola immediatamente alla Presidente Caradonna perché sicuramente un saluto introduttivo in qualità di organizzatrice le tocca. Grazie. Io ti ringrazio, vi ringrazio. Abbiamo tenuto particolarmente a questo incontro perché siamo fermamente convinti tutti che attraverso il dialogo, il confronto e anche l'approfondimento di determinati temi si possa affrontare questo momento di profondo cambiamento che stiamo vivendo anche su queste materie e non solo su queste materie in realtà. Per cui nel momento in cui c'è stata questa opportunità, tra l'altro con dei relatori d'assoluto rilievo e prestigio, io come Presidente di Milano ho ritenuto che perdere un'occasione del genere sarebbe stata una perdita per la città di Milano e per i colleghi che operano. Per cui innanzitutto consentitemi di ringraziare il Presidente Ferro, il Presidente Monteleone e la Presidente Palukoski perché grazie al loro supporto e al loro aiuto è stato possibile realizzare questo evento. E i colleghi che mi hanno supportato e anche la struttura, devo dire che mi ha aiutato tantissimo. Non mi soffermo sugli aspetti tecnici perché saranno oggetto di approfondimento da persone ben più qualificate di me, vorrei però invitare i colleghi a unirsi ai lavori che stiamo avviando come commissioni attraverso dei tavoli di riflessione approfondimento sulle tematiche che questo cambiamento in atto, ovviamente è tutto in divenire perché sappiamo che è ancora tutto in divenire, dovremo vedere il legislatore futuro che impostazione seguirà e dovremo analizzare. Però sicuramente i testi che stiamo affrontando, che abbiamo già potuto affrontare e stiamo verificando saranno le basi dei progetti futuri. Per cui stiamo avviando un'intensa attività all'ordine su questo tema, ordine che in quanto istituzione può anche farsi dirigente nei confronti del legislatore un domani anche attraverso il Consiglio nazionale con un'attività di collaborazione, applicazione delle norme e supporto ai tribunali perché in realtà la sinergia, abbiamo sempre pensato che la sinergia è fondamentale. Cedo la parola alla Presidente Palukowski ringraziando nuovamente e pensando che non finisce qui. È solo un punto di partenza sicuramente non un punto d'arrivo per Milano nelle collaborazioni con voi. Grazie. Dunque io siedo in questo momento qui ma non sono io, sono in sostituzione ovviamente immeritata del Presidente del Tribunale, il Dottor Roberto Vichi, il quale aveva accettato, io ho visto anche la mail con cui aveva risposto all'invito con estremo entusiasmo visto che l'argomento era un argomento particolarmente interessante e vivace di presenziare e di aprire questi lavori ma è stato poi diciamo così cooptato per un'iniziativa istituzionale legata al giorno della memoria per cui non ha potuto essere presente oggi e avendo visto che io facevo parte del panel dei relatori mi ha delegato il suo saluto, l'espressione del suo rammarico per non essere potuto essere qui e la considerazione che l'argomento scelto era particolarmente interessante, che lo era alla luce anche dei suggerimenti, degli elementi di criticità che per i professionisti dubitamente emergevano dai decreti delegati e che avevano creato obiettivamente nella categoria un certo tipo di preoccupazione se non altro o di attenzione particolare al nuovo testo di legge e quindi si rendeva conto che questo è un momento particolarmente caldo, particolarmente delicato nel quale magari il momento di riflessione che in questo momento il venir meno della legislatura ha determinato potrà propiziare magari una maggiore attenzione o una maggiore considerazione per alcuni principi che la legge delega aveva richiesto anche su input europeo e che si sono ribaltati forse in maniera anche un pochino troppo semplicistica nel mettere determinate calmierazioni ai costi delle procedure o nella determinazione dei criteri di calcolo dei compensi del tutto edotto però che ciò era probabilmente stato frutto di notevoli abusi che in passato erano stati fatti da qualcuno quindi l'auspicio del presidente era che questi lavori fossero particolarmente vivaci e chiarissero gli aspetti più critici che vi sono per poter magari portare anche un suggerimento al legislatore meditato e interessante quindi vi ringrazio dell'attenzione vi rimando a domani mattina quando coordinerò la sessione ringrazio 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 alida ovviamente ringrazio la presidente cara donna e prima di cedere la parola al dottor meroni per quella che è una innovazione sotto un profilo scientifico della nostra attività appunto di confronto con i professionisti e quindi per quelle che saranno le questioni problematiche che il professionista intenderà sottoporre all'attenzione della tavola tonda che seguirà immediatamente e subito dopo evidentemente ricollegandomi a quello che alida correttamente giustamente diceva poco fa in un minuto volevo soltanto evidenziarvi che i rapporti dei professionisti nell'ambito delle procedure concorsuali da sempre rappresentano il cuore del problema e dal 2005 che c'è stata una scommessa che il nostro legislatore ha posto in campo e che non sappiamo se e come abbiamo vinta ad oggi direi che la stiamo perdendo perché probabilmente quell'elemento di fiducia di fidefacenza che era stato riposto nei professionisti è stato un po' un boomerang perché se è vero come è vero che i decreti la legge delega ha previsto all'articolo 2 il principio della contrazione dei costi perché poi avevamo registrato di fatto da studi scientificamente ed empiricamente condotti che quasi il 40% dell'attivo veniva riversato su costi preliminari di gestione della procedura beh probabilmente un po' troppo evidentemente c'è stato questo riverman, questo giro di vite che il legislatore della legge delega ha ritenuto di dover attuare i decreti delegati in bozza realizzati da una commissione di esperti di cui alcuni componenti sono appunto componenti dell'osservatorio e quindi sono professionalità di rilievo nazionale evidentemente altro non hanno che fatto che tracciare un ponte ideale è lungo ora quando entreranno come entreranno non lo sappiamo perché dipenderà ovviamente dall'evoluzione anche politica del nostro sistema ma evidentemente dobbiamo trarre un insegnamento tutti insieme se evidentemente ed è vero che ci stiamo confrontando su questo tipo di problematiche perché la problematica della prededucibilità è entro un attimo nel cuore del problema per illustrare quello che è il Firouge che ha condotto il comitato scientifico a ideare un percorso così strutturato e analitico da valutare nel primo pomeriggio nella sessione che seguirà tutte le problematiche che afferiscono appunto ai crediti dei professionisti ai rapporti professionali nella fase preconcordataria quella definita in bianco sino ad arrivare alla fase dell'omologazione per affrontare domattina tutte le problematiche post-omologa dei rapporti dei professionisti e quelle ancora più rilevanti fallimentari laddove domani avremo un tavolo tecnico e abbiamo l'orgoglio di poter dire di riannoverare al tavolo Milano, Roma e Napoli che sono i tre tribunali ovviamente piloti non fosse altro per l'esperienza e per tutto quello che gira intorno a questi tribunali e tutte le prassi attuative della famosissima problematica in relazione all'exception ad impia di contractus che oramai ha creato gravi problemi e molta ansia tra i professionisti beh evidentemente in relazione al problema della utilità in relazione al problema della concezione della funzionalità rispetto all'occasionalità così come dedotta dall'articolo 111 abbiamo qui Massimo Ferro che è stato l'estensore della sentenza del 10 gennaio 2017 a cui ha fatto seguito quella del 25 giugno del 2017 della Suprema Corte che ha dettato i paletti della discesa sulla prededucibilità che oggi sia prededucibile il lavoro del professionista a prescindere dall'utilità in relazione al rapporto di un'obbligazione di mezzi e non di risultati è pacifico però perché la legge delega poi ha previsto andando contro tendenza che evidentemente non c'è la prededuzione se non interviene il decreto di ammissione? questo è un problema che dobbiamo porci perché evidentemente ha ritenuto che la funzionalità fosse da parametrare al risultato è una domanda che io lascio alla sessione successiva perché le problematiche attuative e applicative di queste sessioni sono così importanti che appunto involgono la risoluzione non genetica ma strutturale delle problematiche attuative e applicative della genesi appunto del rapporto tra il professionista e la procedura concorsuale o preconcorsuale a cui il professionista come advisor, come attestatore, come perito in qualunque veste agisca deve inevitabilmente rapportarsi l'idea appunto è stata quella di dare voce ai professionisti 15-20 minuti prima dell'inizio della sessione per sentire cosa i professionisti effettivamente dal loro angolo visuale per aprire un vero e proprio confronto con il tavolo tecnico che avrà sia oggi che domani come vi ho detto rilevantissimi appunto relatori di rilevo nazionale i professionisti cosa chiedono a queste sessioni e allora oggi parte e comincia con le richieste o con l'esposizione di queste richieste a cui siamo certi che la sessione successiva darà risposta anche cercando di ridurre ad unità la risoluzione delle varie problematiche che sono sul tavolo do la parola volentieri al vicepresidente della commissione procedure concorsuali dell'ordine di Milano dottor Meroni perché nel tempo assegnatoli possa indicare appunto quello che è la strada delle problematicità che la sessione successiva dovrà cercare di risolvere o affrontare quantomeno prego grazie presidente il compito è arduo innanzitutto grazie buongiorno a tutti grazie all'osservatorio per questo evento che credo possa essere un momento di vero confronto tra gli operatori nel tentativo di avere una lettura della riforma propositiva e possibilmente avere molteplici spunti per migliorarla il compito difficile è provare a dare una piccola sintesi dei dubbi che il mondo professionale in particolare milanese in ultima settimana abbiamo condiviso alcune problematiche e in queste settimane proprio abbiamo verificato che le problematiche sono evidenti in parte già note effettivamente perché abbiamo contribuito in particolare con il comitato scientifico dell'ordine di avvocati e dell'ordine dei dottori commercialisti insieme abbiamo inoltrato al primo di dicembre delle analisi critiche e dei suggerimenti alla commissione ma è anche ulteriore conseguenza di incontri che abbiamo avuto anche in maniera informale anche con altri curatori professionisti commissari giudiziali con i rappresentanti delle associazioni di concorsualisti eccetera piccola premessa la mia figura professionale è una figura che fino al 2006-2007 era solo giudiziale quindi praticamente con incarichi che arrivavano solo dal tribunale poi si è evoluta con la modifica della riforma e quindi una visione anche di un'assistenza all'imprenditore un avvicinamento quindi alla crisi d'impresa dalla parte del preconcorsuale e quindi ho potuto in questo periodo ben notare e comprendere i motivi cardine che penso siano alla base di questa riforma che dico la verità per quello che ho sentito sì tante criticità tante criticità dal mondo professionale ma anche molte condivisioni nei presupposti nelle valutazioni delle patologie io voglio richiamare alcuni dati statistici che sono noti ma li richiamo perché in particolare su quelli milanesi a Milano sono aperti davanti al tribunale di Milano fallimenti che hanno oltre 25 miliardi di passivo di cui impatta per il monte crediti il 40% e quindi per circa 10 miliardi l'erario le banche per circa 6-7 miliardi quindi il 28% circa i fornitori per 20% i professionisti l'1% i dipendenti 3% circa questo su base milanese i concordati preventivi su un campione nazionale di 800 di cui impatta in maniera significativa Milano per oltre 200 a 5 anni dall'ammissione non hanno pagato i creditori di credo affari quindi penso che questo sia uno dei dati fondanti dei motivi e dei contenuti e anche dell'accelerazione di questa riforma fallimentare a livello nazionale possiamo dare facendo un'esposizione che quasi 300 miliardi sono i dati delle insinuazioni e passivi dei fallimenti di questi 300 miliardi entriamo un po' nell'ambito dei professionisti un miliardo e mezzo circa sono i crediti professionali questo come dato di sistema di macro sistema ulteriore evidenza è che forse è la base di tutto perché si è arrivati a questa a questa riforma e con queste modalità l'83% delle società che hanno chiesto il concordato erano oggettivamente in solvenza almeno 3 anni prima e questo è un dato abbastanza abbastanza scontato l'80% di questi concordati è liquidatorio quindi la parte della riforma che cerca di divertere sulla continuità aziendale chiaramente è un ambito minoritario sulla base dei dati storici diciamo che le criticità dei professionisti sulla riforma sono tante e ho cercato di limitarne a poche perché poi con una tavola rotonda con tali relatori penso che possono anche essere in autonomia a gestire un percorso però inizio a fare alcune precisazioni l'articolo 6 delle disposizioni per l'attuazione del codice della crisi prevede che il collegio dei tre esperti nominato tra iscritti commercialisti e avvocati prevede requisito per la nomina di aver svolto funzioni di commissario attestatore o professionista presentatore in almeno tre concordati in continuità aziendale ammessi o tre accordi di ristrutturazione omologati ritengo che il perimetro di questi requisiti a livello nazionale riduca molto l'ambito dei possibili professionisti che ad oggi possa avere questi requisiti in quanto in molti tribunali per esempio le figure di commissario presentatore asseveratore sono preferibilmente non 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 diciamo equiparabili e comunque le professionalità e le attività in questo contesto possono essere diverse rispetto ai ruoli che vengono presi quindi chi fa solo giudiziale non è così semplice avere avuto nell'arbitro degli ultimi anni essere stato commissario giudiziale in tre procedure di concordato in continuità e viceversa dall'altra parte i presentatori presentatori o asseveratori di concordati tutti in continuità quindi a livello statistico nazionale penso che sia un problema nell'immediato avere figure professionali che calzano rispetto a questa previsione l'articolo 17 dell'isposizione per l'attuazione del codice della crisi prevede l'istituzione dell'albo di soggetti incaricati delle funzioni di gestione di controllo nelle procedure di quel codice della crisi di risolvenza tali soggetti possono essere costituiti in forma associata o societaria qui anche il commentato scientifico ha rilevato dei rischi diciamo di possibili patologie in quanto il dubbio che tale previsione possa comportare è la richiesta di essere inseriti in questi soggetti in forma societaria anche soggetti di dimensioni relevanti quali per esempio le società di revisione che possono provare a chiedere qui secondo me nasce un possibile conflitto di interesse a livello anche diciamo senza richiamare diciamo note di cronaca americane recenti ma il problema vero è questi conflitti di interesse possono essere se laddove revisori per esempio di società di certe dimensioni poi vengono ad avere l'incarico di advisor per la presentazione di concordati e quindi faccio un'ipotesi stranissima ma magari calzante su anche degli esempi purtroppo noti almeno a me ma anche ad altri professionisti cioè di società di revisione che danno dei rilievi negativi a un bilancio magari giustamente e poi sono gli advisor del soggetto che va a comprarsi l'azienda o che fa l'offerta per comprare l'azienda chiaramente non c'è nulla di per ordinato ma potrebbe succedere casistica di questo tipo quindi come rischio diciamo come possibile rischio la valutazione se laddove tali soggetti possono essere ritenuti inseribili in questo alco la modifica dell'articolo 2467 sulle soglie per la nomina dei sindaci riduce molto diciamo la nomina nei collegi sindacali l'attivo viene ridotto a 2 milioni di euro i ricavi 2 milioni di euro 10 dipendenti solo per l'esercizio abbiamo fatto nei giorni scorso un piccolo raduno di pochi commercialisti e abbiamo detto proviamo a fare un esempio siamo in 18 proviamo a buttarli cosa viene fuori i costi sarebbero chiaramente rilevanti per questi soggetti cioè i clienti di singoli commercialisti tutti non concorsualisti tra parentesi quindi tutti commercialisti che hanno una platea di clienti e la diciamo medio piccola magari anche con qualche punta e abbiamo fatto statisticamente che per ognuno ha valutato il proprio cliente e chiaramente il costo ipotizzato andava a incidere per i medio piccoli in maniera significativa quindi a livello nazionale questa previsione può essere un problema per certe realtà medio piccole questo ancora di più in quanto il collegio sindacale viene ritenuto forse il principale attore e destinatario per le verifiche dei presupposti per l'allerta cioè qui abbiamo visto i grandi i grandi creditori agenzie delle entrate IMS eccetera come attivi nell'attivare l'allerta ma il collegio sindacale viene nella provisione normativa di riforma investito di una responsabilità ancora più ancora più evidente ancora più rispetto all'attuale e teniamo conto che statisticamente molte volte nel collegio sindacale uno dei tre mediamente è anche consulente il commercialista anche se non si dovrebbe o comunque direttamente o indirettamente della società le conseguenze il maggior costo abbiamo visto l'esistenza di collegi sindacali maggiormente responsabilizzati con onere responsabilità oggettivamente aumentate il rischio in caso di collegi sindacali meno competenti dal punto di vista aziendalistico concorsuale e questo chiaramente è una automaticamente una critica che facciamo probabilmente a noi commercialisti ma laddove ci fosse queste realtà di collegi sindacali non tecnicamente in grado di valutare i presupposti rischi il rischio di avere un'eccessiva solerzia nell'attivazione quindi la paura delle responsabilità civili e penali che comunque sono insite nella riforma un'accelerazione nella segnalazione e quindi le conseguenze quali possono essere e qui rimando al successivo al successivo dibattito arriviamo all'articolo 8 del codice della crisi dell'insolvenza questo è l'articolo che chiaramente ha più trovato ridievi critiche nel mondo professionale il procedente l'ha anticipato e vediamo poi in seguito come potrà essere meglio meglio e nucleato in particolare dubbi perché la percentuale dei compensi è solamente quantificato sull'attivo perché sull'attivo tra parentesi neanche l'attivo contabile ma sull'attivo attestato tenete conto che mediamente il bravo consulente prende la contabilità della società in crisi chiaramente redondante di tutti gli asset che sono contabilizzati poi si iniziano a smarcare i crediti non esistono il magazzino è completamente eccetera eccetera a questo punto si fa un lavoro su 100 e poi si arriva a attestare 10 o 20 quindi partiamo da un'ipotetica attuale commisurazione di compenso sull'attivo di 100 e passivo chissà di quanto e poi si arriva ad avere un compenso che viene invece quantificato solamente sul 10 che viene attestato quindi questo parametro oggettivamente creerà delle problematiche diciamo oggettive dei professionisti che sono dedicati a fare ristrutturazione aziendale tra parentesi domanda nella domanda in questo attivo è ricompreso la finanza esterna è vero che riviene attestato ma l'attestatore attesta la finanza esterna quanto impatta la finanza esterna quindi comunque anche questo il compenso può essere riparametrato anche sulla finanza esterna che verrà messa a disposizione l'acconto del 25% l'acconto del 25% devo dire la verità non è stato un qualcosa che non è stato disconosciuto come una cosa così inverosimile da parte delle discussioni che abbiamo avuto a livello professionale magari il 25% è un pochino ridotto però il messaggio di avere un compenso professionale nei confronti dei professionisti che assistono le imprese in crisi non immediatamente incassabile fatto salvo l'asseveratore che secondo noi l'asseveratore deve rimanere un terzo e che secondo noi può avere secondo noi secondo le discussioni che abbiamo avuto dovrebbe avere comunque il pagamento immediato l'avere un compenso che può essere diciamo parametrato all'andamento dell'evoluzione del piano concordatario non è un qualcosa che è fatto particolarmente scalpore però c'è da valutare anche questo così come viene impostato e quindi con un parametro oggettivo immediato e nucleato di un compenso professionale il rischio che abbiamo tutti valutato è che l'incarico non arriverà più al singolo professionista ma probabilmente su incarichi medio-grossi arriveranno a soggetti di un certo rilievo studi professionali piuttosto che associati piuttosto che associati di revisione piuttosto che advisor in un certo contesto eccetera e quindi ci sarà da questi soggetti che riceveranno l'incarico un accentramento dei parametri anche delle imposizioni di compensi ai soggetti che poi vengono coinvolti soggetti che sono legali legali specializzati in materia professionisti revisori periti eccetera quindi ora chiaramente c'è una moltitudine di soggetti coinvolti lo saranno anche dopo ma probabilmente con un plafon di parametri di compenso ridotto se poi dobbiamo andare nel merito che il 25% è il massimo che possa essere incassato chiaramente ci potrebbe essere veramente una problematica di interazione e probabilmente i migliori professionisti sulla piazza i più tecnici quelli che sono più esperti avranno dei problemi a poter dire aderiamo a questo laddove ho una struttura di studio organizzata per fare questo tipo di attività e poi posso prendere a ricevere solamente un importo inferiore tra parentesi accumulo su più professionisti poi la prededucibilità ridotta solo al 75% dei crediti professionali per concordati e accordi di strutturazione e rimando il perché e le valutazioni al successivo dibattito ecco quello che rimane forse il fondamento del dubbio è perché non sono prededucibili i compensi professionali ai professionisti nominati durante la procedura di allerta e composizione assistita della crisi ma lo sono solamente i compensi del collegio degli esperti nominato dall'OCC quindi la domanda è il debitore che si trova in un'oggettiva problematica e subisce diciamo che inerte quindi subisce l'allerta da parte del collegio sindacale del revisore oppure dai terzi subisce quindi la segnalazione dell'allerta in quel momento si trova a dover avere una difesa cercare una difesa ma i propri professionisti non sono prededucibili in questa impostazione quindi è vero che tutta l'evoluzione della riforma prevede una necessità di nuova finanza quasi oggettiva però qui rimane un problema oggettivo per il debitore non avrà un professionista che ha la garanzia della prededucibilità e quindi dovrà valutare il debitore come riconoscere al proprio professionista che dovrà interloquire con il collegio degli esperti nominato per avere diciamo una tutela diciamo di parte fermo restando questo si auspica chiaramente che il collegio sia ottimamente equilibrato sia pure con le nomine che arrivano da tre soggetti diversi sempre recepita la nomina da parte dell'albo costituendo e ecco questo diciamo come focus su questo su questo su questo su questo quindi non ho voluto ampliare oltre perché i motivi potrebbero essere ancora più ampi però dal punto di vista della lettura della riforma dal punto di vista professionale queste secondo me sono le macro mi permetto però prima di lasciare diciamo all'evoluzione della società tavola rotonda a fare alcune puntualizzazioni vado un attimo fuori luogo l'ho anticipato perché ritengo che sia anche perché sono presidente della commissione procedure concursuali cioè fallimento anticipo qualcosa che va a ricondurre anche la tavola rotonda di domani sono piccole cose piccole che ritengo comunque dover segnalare ma perché rientra proprio nel discorso rapporti professionali professionisti nell'ambito delle procedure dato oggettivo i fallimenti le future liquidazioni giudiziali sono sempre più vuoti privi di attivo questo è un dato oggettivo e lo sarà ancora di più ma privi di attivo anche perché sono sempre più inesistenti le azioni cioè sia le azioni esecutive sia le azioni di responsabilità le azioni penali sono privi di patrimonio aggredibile i soggetti che vengono convenuti o convenendi nelle vertenze i curatori in particolare quindi mondo professionale hanno per queste procedure la medesima inconvenienza le medesime problematiche forse ancora di più perché in queste procedure l'ambito penalistico e quindi tutta l'attività diciamo di raffronto con il pubblico ministero con la guardia di finanza per andare ad essere fonte di prova nel futuro eventuale procedimento penale chiaramente impattano appunto dell'attività professionale del curatore in maniera preponderante per un compenso simbolico altro rilievo questo l'abbiamo già condiviso anche in un convegno di un qualche tempo fa sullo stato dei procedenti penali io lo richiamo questo perché comunque nella riforma c'è diciamo una previsione di modifica anche diciamo benefici diciamo per l'imprenditore dove si attivi immediatamente per per l'allerta e per attivarsi a procedimenti di tutela allo stato la maggior parte dei procedenti penali per reati di banca rotta non portano alcun beneficio esercitorio per la massa dei creditori cioè tutte le costituzioni partecipali se non che in maniera simbolica e forse anche diciamo di qualificante per chi le offre e dei curatori che le portano poi alla transazione del comitato creditore e di del tribunale perché c'è un'inesistente previsione di un subordinamento all'ottenimento del patteggiamento o riconoscimento di attenuanti per un effettivo esercimento quindi il pubblico ministero riceve la richiesta di patteggiamento e quasi mai quasi mai non lo prevede la norma di un esercimento subordinato per dare attenuanti o il patteggiamento quindi molte volte si costituisce parte civile ma poi dopo non si ha nessun beneficio finisco velocemente dal primo gennaio i fondi realizzati da curatori delegati del giudice dell'esecuzione dovranno confluire nel fondo unico giustizia con modalità che verranno rese note molti di noi molti professionisti amministratori giudiziari avvocati che interagiscono magari con il FUG hanno rilevato una criticità operativa del FUG del fondo del fondo unico giustizia e quindi i modi e i tempi attualmente del FUG sono compatibili con la futura attività che curatori e delegati del giudice dovranno con le accelerazioni che riforma che integrazione interpretazione per le modalità e tempistiche che la gestione di una procedura concorsuale stiamo parlando di fallimento non procedure concordate sono fuori da questo ma comunque necessita nelle quotidiane incombenze questo è un grossissimo dubbio che ci stiamo ponendo finisco con una piccola nota la sentenza della Corte di Giustizia la 246 del 2007 del 2311 del 2007 condanna l'Italia per l'illegittimo obbligo di attesa oltre dieci anni per il recupero dell'IVA dei creditori ammessi a procedure concorsuali è appena arrivata se ne sta valutando ma però veniamo da un paio di richieste di questo tipo che secondo me possono essere anche dal punto di vista del presupposto qui non c'è forse l'agenzia delle entrate ma l'impatto può essere molto rilevante vi sono già pareri di tributaristi che indicano al cliente la possibilità di mettere la nota di decreto sulla base di tale sentenza quindi l'impatto per le procedure potrebbe essere l'emissione di note di credit che sulla base della sentenza della corte di giustizia arriveranno a tutti noi curatori o a tutti i curatori dicendo questa nota di credito sentenza corte di giustizia UE dieci anni sono trascorse la procedura e apporto in l'effetto e l'impatto è notevole potrebbe essere notevole qui poi l'agenzia delle entrate prenderà posizione del ministerio eccetera non penso sarà una cosa di immediata però potenzialmente potenzialmente se qualcuno cavalcasse questa sentenza e se soprattutto non ci sarà un intervento diciamo interpretativo potrebbe essere un ulteriore io mi fermerei qui anche perché siamo arrivati velocemente all'orario stabilito ok grazie grazie e allora grazie dottor Meroni come avrete avuto un modo di notare soprattutto dei urecondendo sono stati spiegati una miriade di problematiche eventualmente applicative ma la sessione che segue tratterà anche di problematiche dei urecondito cioè di quelle che quotidianamente i professionisti hanno nella gestione del preconcordato fino alla sede appunto di omologazione del concordato medesimo e allora siccome l'attesa l'aspettativa di questa sessione di questo meeting per usare una parola cara alla presidente Caradonna era abbastanza rilevante non potevamo non schierare una squadra di professionisti di fuoriclasse perché non potevamo andare a una finale di Champions senza schierare la miglior formazione possibile e allora la miglior formazione possibile della sessione di domani che io non potrò presentare la presento già adesso perché ovviamente è capitanata da Lida e vedrà il presidente Lamalfa il collega De Matteis di Napoli e vedrà la professoressa Marinucci e il professor Meo come ambito diciamo appunto universitario di rilevanza mentre i titolari di oggi che partono subito hanno ovviamente non potevamo fare a meno di Capitan Max e quindi parte il grandissimo Massimo Ferro e poi abbiamo il collega Silvestrini e il collega Terrusi e poi abbiamo due ali di tutto rilievo che sono il professor Ambrosini e il professor Fabiani se non fosse che trattassimo del credito dei professionisti vi vorrei dire buon divertimento ma mi sa che qui da divertirsi c'è poco buon lavoro grazie metti a destra metti qui metto Silvestrini Sandro siamo già microfonati è abbastanza imbarazzante perché qui siamo ancora pensiamo di essere nel backstage invece siamo di fronte a voi giustamente ci stavate aspettando noi in silenzio non riusciamo ad essere a rimanere e quindi tanto vale che mi prendo tutti tutti gli oneri le incombenze della preparazione tale da consentire anche i miei colleghi di tavola rotonda di attrezzarsi adeguatamente a questa conversazione lungamente annunciata lungamente preparata forse anche in qualche modo attesa ma mi consola sapere che la seconda puntata affidata a Lida Palukoschi in realtà completerà il periplo di questi importanti temi come mai in questi anni il rapporto tra professionisti e procedure concorsuali si è venuto a focalizzare anche secondo modalità conflittuali non solo perché si tratta di prestazioni siamo in materia che sono rese dai professionisti verso un imprenditore in crisi o insolvente ovvero in una zona già divenuta concorsuale attualmente concorsuale o prossima ad esserlo ma certa i crediti sono crediti non ad impiuti quelli di cui parleremo tra oggi e domani con Lida Palukoschi e noi cinque già oggi quindi pongono un problema di trattamento concorsuale di una relativa domanda nel concorso e nella competizione con altri creditori oppure sono crediti ad impiuti in realtà quindi restituiscono la problematicità connessa a pagamenti che sono suscettibili di instabilità per effetto di una rivisualizzazione concorsuale interna alla stessa procedura pendente o una procedura successivamente instaurata parleremo di crediti collegati a prestazioni che a loro volta sono il frutto di nomine tutte di provenienza soggettiva del debitore in parte necessitate dalla legge perché sono funzionali a rendere possibile se vi piace di più a regolarizzare il completamento di un iter procedimentale che il debitore si propone di realizzare o nel quale è comunque chiamato e quindi prestazioni indefettibili per altra parte sono prestazioni elegibili sceglibili optabili perché la nomina è discrezionale non solo circa la persona ma circa aver ricorso l'essere ricorsi a prestazioni quindi aver fatto ricorso a quel tipo di competenza professionale quindi l'attitudine della prestazione commessa è più ampia e c'è anche un altro tema di sovrapposizione ad attività interne all'impresa analoghe e quindi sullo sfondo una domanda di eventuale necessità o meno circa una fattibilità presente all'interno delle risorse dell'impresa una delle ricerche più recenti che abbiamo condotto come associazione per chi ci ha seguito è quella del censimento dei concordati anche prima sono stati offerti alcuni dati del censimento dei concordati preventivi 2006 2016 di Toscana e di Puglia isolando per quel che qui interessa un dato è emerso che le procedure più funzionali e quindi quelle che nel tempo assicuravano maggiore stabilità e quindi maggiore successo erano quelle più costose vado molto in semplificazione ed erano quelle che prevedevano una nomina di professionisti anche da parte dell'autorità giudiziaria quella quella ricerca che ha recato molti dati che trovate in dei contatti oggi in un'elaborazione anche scritta uscita da qualche settimana ha messo in evidenza un dato sul quale si è un po' superficialmente fermata l'osservazione quotidiana delle analisi economico-giuridiche e cioè il costo dei professionisti perché queste procedure di successo che abbiamo analizzate si trattava di circa 700 concordati all'interno dei quali abbiamo isolato le procedure che non erano poi saltate per aria in virtù di procedure concorsuali successive e quindi non si è parlato di nessuno dei problemi di cui parleremo oggi erano quelle che avevano richiesto maggiore apporto professionale sia da parte di nomine interne all'istituzione giudiziaria sia da parte del nome del debitore ciò che ha fatto scalpore è quel dato medio classificato in quattro categorie quelle prestazioni che recava il costo di successo di una procedura in quelle due regioni in 650 mila euro circa è passato mediaticamente questo dato sono molto costosi qualche comunicato anche nazionale che ha reagito a quel dato al quale però noi avevamo avuto cura di affiancare immediatamente che si trattava di un dato non di preoccupazione in sé ma di successo perché abbiamo analizzato quelle procedure e abbiamo visto che laddove c'erano interventi di richiesta di chiarimenti di rettifiche anche di contestazioni e superavano quelle procedure il vaglio di questi passaggi procedimentali incontravano minori resistenze da parte dei creditori maggiore successo tra l'ammissibilità e le omologhi minori incidenti di esecuzioni non scontavano aperture di dichiarazioni di fallimento e quindi il dato va restituito come tale le procedure di successo esigono ci viene da dire l'apporto di più professionalità alcune di parte nomine del debitore altre di robusti iniezioni di controllo da parte dell'autorità giurisdizionale e tuttavia sono costose il dato ve lo restituiamo come tale anche a distanza di un anno perché il tema rapporti professionali crediti professionali all'interno di un'ipotesi che dobbiamo pensare sia stata di insuccesso siamo qui a parlare della problematicità della acutezza di crisi che genera il problema del credito del professionista perché il professionista o meglio nonostante l'apporto del professionista il progetto del debitore non è andato a compimento se parliamo di un credito del professionista stiamo parlando di un credito che viene insinuato in termini di una liquidazione coattata amministrativa di un'amministrazione straordinaria più comunemente di un fallimento e stiamo quindi visualizzando riaprendo una finestra su una prestazione che possiamo dirlo oggettivamente non è servita al di là degli intenti poi lo vedremo con molta analitica non è riuscita ad apportare quel pluris quel quid pluris in modo tale da rendere di successo quel progetto perché perché la problematicità del credito del professionale perché si sposa ad una norma il 111 che ha una sua rigidità è una rigidità di tipo evidentemente normativo nessun pagamento ai creditori posteriori prima si pagano i predidotti non si pagano i privilegiati se non vi è stato primo un pagamento ai predidotti diciamocelo ricordiamocelo c'è uno scontro immanente all'articolo 111 attuale della legge fallimentare con il principio di solidarietà il quale si attua in materia solo nei casi di incapienza per l'intera categoria dei predidotti e quindi sorge per questo insieme di fattori critici anche prima sono stati ricordati il dubbio se vi sia davvero se ricorda davvero una ragione di meritevolezza preferenziale ora lo sguardo anche critico e severo che ebbene si resti tale nei confronti e della legge delega da un lato e delle bozze dei decreti delegati che vi sono noti probabilmente trascura in parte che la cornice normativa all'interno della quale questo lungo procedimento di riforma si andrà necessariamente a situare lungo perché non è affatto terminato implica anche uno sguardo necessario a una serie di indicazioni normative che ci accompagneranno possiamo fare un po' all'italiana prescindere nel legiferare come se non e tuttavia inesorabilmente i passi del legislatore dell'Unione verso una indicazione di qualità selettiva anche sul tema dei rapporti professionali e crediti professionali nei procedi concorsuali restituiscono alcune incombenze che vanno considerate l'articolo 17 di quella che attualmente è la proposta direttiva del novembre del 2016 prima era la raccomandazione del 2014 e tener conto della raccomandazione del 2014 sta all'inizio della legge delega e quindi a cascata chiunque sarà poi a scrivere in stasura definitiva se ci saranno i decreti delegati fino a che c'è quell'incipit non ne potrà prescindere pone in salvaguardia tutte le operazioni che sono effettuate per agevolare le trattative che poi conducono alla ristrutturazione sia che essa avvenga sotto l'autorità giudiziare sia che essa avvenga sotto l'autorità amministrativa al punto che le protegge le protegge evitando perdesse un giudizio di nullità di nullabilità o di inopponibilità in quanto atti pregiudizievoli per la massa dei creditori nell'ambito di una successiva procedura di insolvenza quindi queste prestazioni se si sono in qualche modo resi interdipendenti rispetto a un progetto ristrutturativo non è detto che siano nulle annullabili o inopponibili in quanto atti pregiudizievoli della massa dei creditori purché siano state resi in modo non fraudolento e non in malafede questo come norma di carattere generale lo stesso articolo 17 poi precisa che le operazioni che beneficiano di questa tutela sono senza nessuna delimitazione il pagamento dei salari dei lavoratori per il lavoro già prestato e poi e ci riguarda il pagamento di onorari e costi ragionevoli ragionevoli necessari per la negoziazione adozione omologazione e attuazione del piano di ristrutturazione ovvero il pagamento di onorari e costi ragionevoli e necessari per consulenze professionali su qualsiasi aspetto del piano di ristrutturazione se all'inizio di questa conversazione cerchiamo di memorizzare poche alcune norme tra cui questa dell'articolo 17 forse entriamo un po' di più in un clima cooperativo di tipo culturale per comprendere come queste clausole generali dovranno essere riempite di contenuto e potranno essere riempite di contenuto nei due modi classici o con delle norme di molto puntuale dettaglio che possono piacere o non piacere ma che risolvono una parte del problema lo fotografono lo puntualizzano in un certo momento storico individuano delle soluzioni di proporzione di equilibrio di compromesso oppure mediante una traduzione un'importazione a livello di ordinamento interno di ulteriori clausole generali come sapete le due modalità normative sono diverse la prima è molto appagante la piazza è molto appagante l'insieme lobbistico l'insieme di interessi anche leciti che si affacciano verso il legislatore che realizzano un certo risultato molto tangibile perché laddove la norma è di dettaglio lo si vede quel risultato è un risultato che imbriglia l'interpretazione la protegge evita lo sfondamento verso il basso o verso l'altro con rispetto ai cosiddetti sovralimiti la norma di dettaglio la norma non di dettaglio la norma generale la clausola generale implica un lavorio lento un conflitto da riportare all'interno della giurisdizione inevitabilmente tra portatori di interessi contrapposti e quindi l'attesa di tempi che permettono il consolidamento di un formante giurisprudenziale con il concorso fondamentale della dottrina idoneo a determinare che in quel paese in quella zona domestica del diritto dell'unione quella clausola generale visto che stiamo parlando dell'articolo 17 sia interpretabile per consuetudine interpretativa per riempimento gradualmente in modo stabile ma ci vuole tempo il vantaggio di questa seconda soluzione è l'estrema capacità di adattamento e lo svantaggio è il tempo capacità di adattamento rispetto agli scombussolamenti che derivano da fenomeni di deviazione nelle prassi dell'uso degli istituti lo svantaggio è il tempo lo svantaggio è la richiesta cooperativa di più ceti protagonisti dell'ambito processuale di cui si discute nell'altro campo la norma di dettaglio è il grande vantaggio di sattollare un po' le aspettative di pancia o se volete di fotografare perché di questo si tratta attraverso una norma le attese di maggioranze di interessi che determinano un certo momento ma il grande le norme svantaggio di essere vetusta dopo poco tempo di fronte a fenomeni che sopravvengono e che non sono stati recepiti così di dettaglio da essa stessa io non so dove andrà questa legislazione che voglia che ha certamente tenuto conto dell'articolo 17 forse ne ha tenuto conto in parte a passare aggiungo solo che sempre per restare nell'articolo 17 come opportunità data agli stati ma come norma che la direttiva imponga si lascia che gli stati possono esigere che per beneficiare della tutela di cui ho parlato quelle operazioni tra cui anche la consulenza e quindi le attività generative di oneri e costi ragionevoli e necessari per negoziazione quindi consulenze ragionevoli e necessarie siano approvate o da un professionista nel campo della ristrutturazione o anche dall'autorità giudiziaria e amministrativa e così chiudo questo cenno il professionista nel campo della ristrutturazione non è come sembrerebbe non leggendo la norma il comune diciamo professionista ma è un professionista di orbita pubblicistica quindi nominato dall'autorità giudiziaria quindi o un professionista nominato dall'autorità giudiziaria e amministrativa va a severare a testare in qualche modo a validare quelle operazioni o lo fa la stessa autorità giudiziaria questo è lasciato agli stati questo è lo scenario nel quale dobbiamo entrare in termini di confidenza qual è la preoccupazione che è stata alla base di qualcuno ha parlato di una deriva qualcuno ha parlato di un eccesso non è necessario riprodurre queste espressioni anche se si può anche condividerle ma poi si troverebbero subito altri esempi statistici per negare che sia andata così in ogni caso quali sono state le preoccupazioni di tipo teorico quelle un po' più nobili alla base di un intervento che da molte parti è sentito come necessario non esigenze di carattere punitivo ma esigenze di riflessione attorno proprio alla domanda ma sono così meritevoli e tutte entro che limiti queste prestazioni da poter essere assegnate ad esse una sicura corrispondenza idonea a generare una sorta di indennizzo dal rischio verso la procedura concorsuale e la domanda che non è così eccentrica stiamo parlando di crediti o stiamo parlando di una aspirazione all'indennizzo cioè i portatori e quindi erogatori di queste prestazioni che a loro volta determinano dei crediti laddove si confrontano all'interno di un contesto competitivo come necessariamente quello cui dà vita una procedura come la LCA l'amministrazione straordinaria e il fallimento successivo si trovano a dover controvertere su risorse scarse non capienti per tutte e quindi a far valere uno statuto che comunque parte da una nozione di credito è vero la legislazione degli ultimi 5-6 anni e anche un po' di più degli ultimi 10 anni ha inserito nel nostro ordinamento una serie di prestazioni funzionali tecnicamente funzionali a rendere possibile il successo di queste procedure concorsuali in molte sedi le abbiamo riepilogate anche dal punto di vista terminologico i finanziamenti ponte poi i finanziamenti interionali e i finanziamenti in esecuzione per ciascuno di essi in qualche modo chi più chi meno fa capolino l'interesse dei creditori e fa un capolino particolare cioè emerge si fa vedere non è sempre del tutto implicito e comunque è una clausola generale che per molti è ritenuta come immanente al procedimento laddove più procedimentalizzato questo passaggio conduca a rendere quel credito da finanziamento di sicura esazione prededotta nei limiti in cui anche la produzione sia sicura perché abbiamo visto ci potrebbe anche non essere una capienza per tutti i creditori prededotti nella successiva procedura la clausola generale oggi ci occupiamo di funzionalità più che di occasionalità la clausola generale di cui l'articolo 111 e torniamo a quel doppio modello normativo non dice nulla dice funzionale alle procedure concorsuali e però all'interno di una ricostruzione del significato ci siamo trovati dopo una dozzina d'anni a rimettere in discussione qualche cosa di più di quella nuova di quella clausola generale di nuovo cono ci siamo trovati cioè ad interrogarci comincerai con te ad alcune domande che pongono un senso differente rispetto a quello che aveva l'istituto quando è nato agli albori degli anni 70 e interroga proprio quindi sarà una conversazione continua l'interrogativo l'interroga proprio la questione sulla collocazione istituzionale della prededuzione la prededuzione è sempre stata sentita come una qualità qui non sto neanche a definirla data la competenza vostra e anche il fatto che non è il primo dibattito non siamo nel 2007 siamo dieci anni dopo e quindi la domanda da fare immediatamente è questa ma la prededuzibilità è ancora una norma eccezionale e quindi insuscettibile di interpretazione estensiva e tantomeno analogica oppure per queste scelte normative i finanziamenti per la formulazione seppur in termini di clausura generale la funzionalità verso tutto ciò che è strumentale verso l'ingresso in una procedura concorsuale è divenuta una norma semmai speciale l'evoluzione normativa che abbiamo tutti presente è quella di una proibizione violazione di ogni atto che fosse alterativo della par condizio creditorum il secondo passaggio storico protezione di singole prestazioni dieci anni fa con Massimo Fabiani ed altri si parlava di norme ombrello e infine oggi vedete come siamo andati avanti premialità quindi violazione del par condizio creditorum repressa singola protezione norme ombrello oggi incentivo premialità verso prestazioni che rendono possibile la concorsualità a Sandro Silvestrini chiederei se davvero una ricollocazione come esordio una ricollocazione istituzionale della prededuzione è all'ordine del giorno grazie presidente ringrazio naturalmente il ringraziamento è d'obbligo per essere stato invitato qui come relatore il tema mi sembra che tu poni è quello in qualche modo dei rapporti tra la prededuzione e quella che noi abbiamo sempre ritenuto una stella polare il principio della par condizio alcune vorrei fare alcune brevissime notazioni anche un po' assertive diciamo che il problema della prededuzione derivante dalle procedure concorsuali minori noi lo conoscevamo già con la legge del 42 perché come tutti sanno i debiti sorti in amministrazione controllata erano dei debiti prededucibili e tuttavia la giurisprudenza poneva dei limiti al riconoscimento della prededucibilità di questi crediti quali erano questi limiti sono dei limiti erano dei paletti che tutto sommato non sono molto dissimili da quelli di cui noi oggi parliamo sempre con qualche valutazione critica il primo paletto era se l'amministrazione fosse stata revocata ex articolo 173 e l'amministrazione controllata veniva meno anche la prededucibilità il secondo paletto non tutti i debiti maturati in sede di amministrazione controllata erano prededucibili si distingueva tra i debiti di mera gestione dell'azienda lavoratori contributi prededucibili di plano e i debiti per i quali era meramente eventuale l'inerenza con il carattere cautelare e conservativo della procedura di amministrazione controllata per questi debiti ai fini della prededucibilità il giudice andava a verificare l'utilità e la coerenza con il piano di concorocato quindi un po' quello che si fa oggi e si dice che non si debba fare che cosa è accaduto con la riforma del 2006 lo sappiamo tutti è stato introdotto tra l'altro il criterio autonomo della funzionalità il credito è prededucibile se funzionale se teleologicamente finalizzato al buon esito della procedura questo significa che possono essere prededucibili i crediti sorti prima della domanda la ragione la sappiamo tutti si è utilizzata la leva della prededuzione per favorire il concordato nessuno contratta con l'imprenditore in crisi perché dubita della sua solvibilità ma se ha la certezza della prededucibilità del suo credito potrà contrattare è il miracolo della prededuzione ha scritto Stanghellini anche l'imprenditore più indebitato se inconcordato avrà dei nuovi finanziamenti ma questo miracolo della prededuzione nel sistema presuppone che il credito sorga sotto il controllo degli organi concorsuali mentre con il 111 il credito è prededucibile anche se non è sorto sotto il controllo degli organi concorsuali se funzionale e questo spiega certe resistenze della magistratura a riconoscere la funzionalità dei crediti sono delle resistenze che ci portiamo dalla nostra tradizione che cosa poi è accaduto con la legge con la riforma è stata ampliata a dismisura l'area della prededucibilità legale una serie di ipotesi il legislatore le ha testualmente previste come ipotesi di crediti prededucibili tutta la materia dei finanziamenti e soprattutto i crediti derivanti da atti legalmente compiuti dall'imprenditore nella fase prenotativa e a forziori dopo il decreto di ammissioni quindi si è ampliata a dismisura quest'area a questo punto è ragionevole chiedersi che senso abbia e vengo alla sua domanda che senso abbia il principio della par condicio e se la regola della prededuzione è ancora una regola eccezionale io direi che la regola come dire questo ampliamento questo proliferare dei crediti prededucibili non ha un effetto veramente eversivo sulla procedura di concordato e questo per due ragioni innanzitutto perché il principio della par condicio nella procedura di concordato è declinato con minor rigore noi abbiamo le classi in secondo luogo perché la stragrande maggioranza dei crediti prededucibili nel concordato sono crediti non concorsuali questo è decisivo cioè sono crediti che sono sorti dopo la domanda di concordato quindi crediti che sono sottratti agli effetti del concordato e alla falciglia del concordato dovrebbero comunque essere pagati integralmente lo strappo qual è? che vengono pagati prima degli altri ma è un vullus tollerabile la situazione è diversa con riferimento al travaso dei crediti prededotti all'interno del concordato nell'ambito del fallimento dove il principio della par condicio continua ad avere un senso che cosa accade? quello che un nostro brillante collega brillantissimo collega di Pistoia ha definito il danno collaterale dell'insuccesso dell'operazione di risanamento cioè questo proliferare dei crediti prededucibili nell'ambito del fallimento dobbiamo prendere realisticamente atto che il criterio della par condicio è mi avvio alla conclusione è recessivo rispetto all'esigenza di tutelare i protagonisti della crisi di impresa cioè quelli che scommettono sulla risoluzione della crisi scommettono improprio rispetto agli altri creditori che assumono una posizione passiva stanno ad aspettare e quindi sono sottratti alla legge del concorso però e chiudo esiste anche un problema di contemperamento tra l'esigenza questa esigenza di tutela di chi scommette nella risoluzione della crisi di impresa e diciamo il principio della par condicio bisogna essere certi che non vi sia spreco di risorse in danno dei creditori concorsuali e allora almeno in tutti i casi in cui la prededuzione è per così dire debole cioè non validata da un provvedimento giudiziale ad hoc da parte del giudice del concordato almeno in questi casi io credo che in sede di verifica un controllo più penetrante lo si debba fare che poi il controllo in che cosa consiste consiste nella funzionalità la rigorosità del criterio della funzionalità da un lato e dall'altro lato con riferimento agli atti non autorizzati da parte dell'imprenditore se si tratti o meno di un atto di straordinaria amministrazione ora vediamo subito la funzionalità adesso ci stiamo scaldando ma è giusto lo schema prevede continui interventi in campo vorrei esercitare il diritto di chiosa di un minuto perfetto le regole di ingaggio lo prevedono regole scritte un minuto su questo tema sulla regola generale su quello che ha detto Sandro lui è Massimo Fabiani il tema della preveduzione e il tema della parcondicio sicuramente sono collegati guardiamolo nel comparto del concorato perché oggi parliamo di questo e dobbiamo concentrare attenzione su questo credo che sia veramente complicato pensare che la regola nelle procedure diverse da quelle liquidatorie imposte sia la parcondicio la parcondicio non è svanita ma è fortemente evaporata ed è diventato a mio modo di vedere sicuramente un criterio residuale perché il criterio principale in questi procedimenti è dato dal miglior soddisfacimento dei creditori posso rovinare la parcondicio purché io tratti tutti meglio forse dal punto di vista egualitario non sarà bello ma se io riesco a trattare tutti meglio posso superare ampiamente la parcondicio e c'è una disposizione su questo tema inequivoca che è il pagamento dei creditori anteriori il pagamento dei creditori anteriori non può che voler dire questo in funzione della valorizzazione dell'impresa valorizzazione che può essere anche una valorizzazione liquidatoria se do un valore all'impresa allora la domanda chi ponevi eccezionale o speciale io credo che dobbiamo dimenticarci l'origine della prededuzione io qua ho la luce contro non vedo se c'è in sala Elena Marinucci che ci sarà domani Elena Marinucci ha scritto una monografia sui creditori prededucibili Elena Marinucci è un allievo del professor Ricci in pronta processualistica dobbiamo dimenticarci la prededuzione in quella prospettiva la prededuzione a parte quella che inerisce alle spese effettive del concorso è una variante io credo che sia ipocrita nascondere è una variante delle cause di prelazione le cause di prelazione hanno come sfondo la causa del credito qui lo sfondo è la funzione del credito ma al fondo per tutti i crediti che nascono in relazione ad un'attività di conservazione del valore queste prededuzioni in realtà sono a mio modo di vedere ovviamente delle cause di prelazione chiosa finita allora chiedo proprio a te visto che la funzionalità è clausola generale che va riempita di contenuti e quindi voi leggete di adeguatezza funzionale leggete di successo della funzionalità in una procedura che la giustifichi leggete di utilità chiedo a Massimo Fabiani con facoltà per gli altri di intervenire appena ha terminato se appunto la funzionalità la dare verso la procedura concorsuale significhi e quindi si sostanzi in termini sufficienti nel fatto che la prestazione parliamo di prestazione professionale l'abbia resa possibile l'abbia agevolata si sia inserita in un procedimento formativo che abbia condotto alla sua instaurazione ne abbia in qualche modo contributo come contributo le caratteristiche i tempi ovvero se la funzionalità sussiste quando la prestazione si riveli o almeno si possa rivelare di utilità per l'interesse ne faccio accenno adesso Massimo Fabiani l'interesse concentrato nella procedura concorsuale cui inerisce la relazione deve essere strumentale e effettiva a questo punto rispetto alla finalità di comporre organizzare la crisi mediante l'accesso o basta che l'abbia resa possibile allora funzionalità e utilità non sappiamo che in questi dal 2013 la prima quindi sono passati ed era all'inizio del 2013 quindi ormai diciamo sono cinque anni in cui è stato reso più evidente il profilo della prededuzione per le prestazioni professionali allora in questi cinque anni le oscillazioni della giurisprudenza sono state molte dove tante volte si è spinto sull'emma funzionalità altre volte su quello di utilità penso perché tutti i casi non me li ricordo affatto ma penso che molto spesso premere l'acceleratore su un termine o sull'altro sia anche il frutto di una giusta valutazione del caso concreto perché per carità parliamo di cosiddetto ius costituzionis e quindi va bene la nomofilachia però esiste all'attenzione della corte anche lo ius litigatoris e quindi è secondo me ovvio e giusto che ci sia una attenzione alla situazione particolare perché altrimenti diciamo che con gli slogan non risolviamo i problemi e forse con gli slogan accentuiamo le diffidenze e i conflitti da un punto di vista diciamo di impostazione astratta dovremmo dire che abbiamo due due fonti diverse la funzionalità è prospettica l'utilità e quindi da valutare ex ante l'utilità la valutiamo ex post io faccio una cosa per raggiungere un determinato risultato poi questo risultato l'ho ottenuto l'ho reso possibile o non l'ho ottenuto allora io penso che le due espressioni debbano essere tenute distinte che un conto sia il profilo relativo alla valorizzazione di quel credito professionale perché nella chiosa dicevo è funzionale alla valorizzazione dell'impresa ma valorizzazione intendo un valore da destinare ai creditori che può avere a che fare anche con una procedura di concorato liquidatorio se io creo un valore della liquidazione perché tante volte non è vero che i concorati liquidatori scimmiotano al peggio il fallimento sono dei concorati che creano un valore di liquidazione e quindi quello è il tema della funzionalità il tema della utilità è un tema che guardo ex post ma questo a mio modo di vedere non interagisce col profilo della preduzione interagisce con l'altro tema delicatissimo di cui abbiamo traccia nei tuoi quesiti dell'adempimento della prestazione il tema è ma se il professionista non ha fatto bene non ha bene adempiuto al suo incarico non è un problema di strumentalità è un problema di esatto o inesatto adempimento ma questo oggi è enfatizzato dal problema della prededuzione perché anche 13 anni fa nel 2005 prima del decreto legge anzi del 2006 perché l'articolo 111 è del decreto legislativo 5 del 2006 si poneva un problema di adempimento o inadempimento del professionista che assisteva il debitore ma per quanti anni queste reazioni cioè opposizioni alle ammissioni di credito per il addempimento sono state fatte è chiamiamola così una tecnica recente decisamente recente che ha come fonte il fatto che c'è la prededuzione ma secondo me sono due profili che devono essere come matrice emotiva o matrice emotiva più che come fonte perché sostanzialmente come suggestione certamente come suggestione qui cominciamo a entrare siamo già da 20 minuti ma dentro i poli del problema quindi accesso alla procedura formale ingresso in una concorsualità anche con gli effetti protettivi che si produce 60 retorazioni 90 giorni le ipoteche giudiziarie non ci sono interessi non corrono non vengono acquisite nuove cause di predazione non nascono nuovi privilegi siamo nel mondo della concorsualità poi come avete visto qualcuno avrà visto penso tutti siete espertissimi li manipolate meglio di chi ha contribuito a scriverli che i decreti tolgono la figura della missione quale siamo abituati a riconoscere da tempo e individuano l'apertura del proceduro concorsuale quindi anche l'apertura del concordato con una progressività di ingresso nella concorsualità che comunque viene individuata in alcuni momenti particolari qui con Massimo Fabiani abbiamo cominciato a individuare il rapporto tra la prestazione e l'ingresso in procedura o se volete l'ingresso nella concorsualità ci potrà servire anche un domani oltre che due ore conduto e l'analisi dell'interesse concreto allora c'è un passo oltre brutalmente al professor Stefano Ambrosini la validazione giudiziale che è poi l'atto attraverso il quale soltanto si entra nella concorsualità di carattere informale è indispensabile occorre perché come condizione perché si possa poi discutere in un momento successivo anche se il progetto ristrutturativo è entro un tipo di procedura lascia i campi in realtà alla liquidazione coatta all'amministrazione straordinaria o al fallimento quindi all'insuccesso del primo tentativo occorre questo legame e occorre uno stretto legame temporale tra la prestazione professionale e l'instaurazione del concorso pensate al grande tema del concordato con riserva che instaura perché fa nascere un procedimento instaura la concorsualità e che sia revocato su iniziativa dello stesso debitore che sia rinunciato da parte del debitore e seguito da un fallimento occorrono ti chiedo consecuzio e strumentalità o basta la prima e poi chi è che ha l'onere di provare stiamo discutendo del credito professionale e se ne sta discutendo in funzione di un trattamento da causa di prelazione rafforzata diceva Massimo Fabiano o da prededotto chi è che ha l'onere di provare che c'è stata consecuzione dal fallimento dentro il quale si discute del trattamento di quel credito e prima quell'inizio di concorsualità anche un tempo molto lungo è il creditore che agisce io chiedo la missione al passivo di un credito professionale in prededuzione perché ho esercitato questa attività in funzione di tipo materiale di una certa procedura concorsuale che poi ha avuto un suo tempo ha avuto un suo percorso di carattere organizzativo al quale è seguito il fallimento o chi vuole disattendere la nozione di consecuzio è il curatore che voglia proporre il rispingimento della domanda è un'unica domanda in realtà mi sono soltanto dilugato un secondo solo per ringraziare Loci il consigliere Ferro tutti gli amici dell'Oci e per dire che mi sembra che anche questa volta non abbia sbagliato il colpo perché una platea così numerosa e qualificata lo dimostra plasticamente il minuto in più me lo prenderei col consenso di Massimo Ferro per una proposta di metodo che può sembrare strana fatta da un fallimentarista cioè provare a leggere il tema della prededuzione attraverso categorie anzitutto e schiettamente civilistiche la prestazione di mezzi la diligenza della prestazione e il contratto pendente e queste categorie io proverò a usarle per rispondere compatibilmente coi miei limiti ai pregnanti quesiti posti perché questa annosa contrapposizione mezzi risultati non è a ben vedere una contrapposizione netta con poche parole ce lo spiegava Mengoni i maestri come sempre tornano utili dalle pagine di rivista del diritto commerciale del 54 nelle prestazioni di mezzi il risultato coincide con l'adeguatezza dell'attività diretta al raggiungimento dell'obiettivo ecco allora un concetto centrale in questa materia secondo me che è quello dell'adeguatezza dell'attività da combinarsi con quello della funzionalità intesa come astratta funzionalità una volta in cui si superi come la Cassazione ha ripetutamente fatto la teoria della cosiddetta utilità concreta ma questo a ben vedere perché l'interesse perseguito dall'attività professionale non è solo quello del debitore nel deposito del preconcordato e per effetto dello stesso viene perseguito anche l'interesse della massa dei creditori basti pensare alla operatività della par condicio e all'accessazione degli interessi sui crediti chirografari ex articolo 55 allora vi è una meritevolezza che troviamo non a caso anche in materia di revocatoria l'attività strumentale all'accesso alle procedure concorsuali è scriminata sul versante revocatorio perché c'è l'esenzione espressa del 67 terzo comma lettera G che è inapplicabile e qui chiedo veramente l'aiuto del consigliere Ferro perché tutti i codici credo preso atto della abrogazione della amministrazione controllata di cui parlava il presidente Silvestrini perché c'è l'articolo 147 della legge della riforma del 2006 che dice sono soppressi tutti i riferimenti all'amministrazione controllata hanno cancellato amministrazione controllata per cui la norma resta strumentale all'accesso alle procedure concorsuali e di concordato preventivo ne parleremo infatti dopo con Terrusi questo chiaramente è un lapsus la norma va riferita ormai solo più al concordato preventivo però per esempio qui è chiaro che non ci può stare il 182 bis mentre è dubbio ma non mi dilungo oggi vuoi parlare tutti i costi no 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 non voglio criticare la sentenza del consigliere Terrusi anche no no non è il consigliere Terrusi è di 5 persone e lui era un estensore magari dopo lo faccio no tu e io perché siamo d'accordo le due ali sono a Tenaglia se non vi si passa la palla in gol non c'è andata la manovra a Tenaglia ma quello che è certo è che la lettera G non è suscettibile di applicazione anche agli accordi di ristrutturazione e questo stando all'ultimissima Cassazione introduce un involontario paradosso per cui è prededucibile ma è revocabile e quindi qui mi fermo chiudo venendo al cuore e dicendo che secondo me se sono osservati quegli elementi che dicevamo adeguatezza dell'attività e astratta funzionalità il beneficio della prededuzione è ovviamente configurabile anche nel preconcordato e anche ove esso non sia seguito dalla procedura concordataria bensì dal fallimento quindi la validazione giudiziale non è indispensabile a tuo parere secondo me non è indispensabile anche perché valutano proprio per un punto importante ma io sono preoccupato di stare nei tempi non voglio mai esondare per educazione verso gli altri relatori è un punto molto importante che secondo me passa per la categoria civilistica di contratto pendente a mio sommesso avviso ci siamo tutti un po' troppo concentrati su atto straordinario oppure no perché validazione 167 postula la straordinarietà dell'atto se è un contratto pendente e quindi c'è l'adempimento di un'obbligazione il che integra un atto giuridicamente dovuto secondo me non si pone un problema di eccedenza dalla ordinaria amministrazione motivo in più per per predicare una difficoltà a rendere necessaria la validazione Stefano ti chiedo perché so che posso contare su una vastissima competenza anche professionale oltre che ovviamente di grande riconosciuta riflessione teorica quindi anche un principio secondo te a tuo avviso insomma anche un principio di organizzazione professionale verso il debitore in funzione della concorsualità mai nata giustificherebbe la prededuzione quindi le attività del professionista rese nei confronti di un debitore che le abbia richieste e che poi non non si intersecano non divengono interdipendenti verso un'attività con cui il debitore le utilizzi nell'accesso alla procedura concorsale comunque meriterebbero preduzione ecco però questo secondo me non attiene all'atto di ordinaria o straordinaria ma alla effettiva funzionalità perché il quesito che tu poni secondo me tocca l'effettiva funzionalità una prestazione come stai tratteggiando tu mi pare non sia qualificabile come funzionale in senso anche se proviene da un contratto che era pendente tra professionista e debitore che era stato pensato congegnato per rendere possibile al debitore l'accesso a una procedura concorsuale che per tante ragioni poi non c'è stato ma è coerente possiamo anche fare degli esempi cioè perché sono tratti dall'esperienza di tutti noi se il professionista sulla base di un contratto chiaramente chiede un acconto una settimana prima della scadenza del deposito del piano e della relativa attestazione e fino a quel momento non si è fatto quasi nulla intanto è un atto scorretto da parte di noi professionisti perché dovremmo sapere che quell'ipotesi di lavoro è destinata al nulla altro esempio ma per chiarire quello che penso io per quel poco che vale il compenso esorbitante ancorché contrattualizzato pone dei problemi di abuso quando è francamente spropositato rispetto a qualsiasi parametro e addirittura a mio sommesso modo di vedere sul versante dell'ammissibilità quando attiene l'attestatore il famoso caso di 2,2 milioni di euro a un attestatore rischiano di minarne l'indipendenza specie se è la metà del fatturato animo per parlare chiaro o anche di più e allora in casi come questi c'è una ricaduta anche molto pesante allora facciamo questo passo indietro che è soltanto di tipo storico ricognitivo cerchiamo di capire attraverso una puntuale ma breve ricognizione della giurisprudenza di Cassazione come la nozione di funzionalità sia stata abbastanza presto in modo nitido nel 2014 ma relativamente presto altri accendi c'erano anche prima collegata a un'altra nozione normativa di categoria non di dettaglio ma di categoria cioè abbastanza esplicitativa di una fattispecie cioè dei crediti relativi ai servizi strumentali e la procedura concorsuale che ci ha ricordato il professor Ambrosini ora va ristretta a concordato preventivo come la Cassazione Francesco Terrusi ha evoluto la nozione di funzionalità collegando crediti sorti in funzione alla irrevocabilità stiamo parlando del 67,3 lettera G dell'attuale legge fallimentare ma guarda questo è un tema insomma che tutto sommato si può abbondantemente andare a verificare semplicemente scorrendo diciamo le massime io quello che intenderei mettere in evidenza in risposta a questa tua sollecitazione è a mia volta una sollecitazione siccome si sta parlando della lettura di un'evoluzione giurisprudenziale che si è misurata con il concetto di funzionalità spesso correlandolo come si diceva all'inizio al caso specifico e quindi in qualche modo diciamo annaquandolo rispetto alla sua effettiva potenza semantica con il concetto di utilità sono d'accordo con quanto prima diceva Fabiani cioè funzionalità e utilità sono situazioni e concetti diversi che teoricamente non dovrebbero essere tra loro diciamo mischiati sì confusi diciamo però ecco quello che io intendevo dire a premessa di questo di questo brevissimo mio intervento è una una sollecitazione a cogliere quali possono quali sono le chiavi di lettura delle decisioni della Cassazione perché è vero che la questione relativa diciamo al concetto di funzionalità tradisce in qualche modo un aspetto di così messo in evidenza di quelle che possono essere le specificità per giungere a comprimere la valutazione a ciò che è veramente necessario rispetto all'espletamento della procedura ma nella la chiave evolutiva della giurisprudenza si è in realtà basata nel tempo su una affermazione di diciamo avente come crinale di distinzione la valutazione se fatta ex ante o ex post questo discorso della valutazione ex ante o ex post in realtà si è nel tempo chiaramente evidenziato dalle ultime pronunce non è proprio perspicuo perché è evidente che se il punto di riferimento è la funzionalità cioè appunto la visione prospettica rispetto a quella che è lo scopo della procedura la valutazione non può che essere ex ante se invece la valutazione viene spostata sull'angolo visuale dell'utilità parlare di un'utilità ex ante o di un'utilità astratta è insomma un'affermazione di scarsissima concludenza giuridica l'utilità non può che essere concreta non ci può essere un'utilità astratta la cassazione è arrivata a questa diciamo a questa uniformità con una certa fatica anche determinata dal fatto che spesso la notorietà della decisione si è basata sulla massimazione che come sempre tende ad astrarre un principio rispetto a fatti specie che dovrebbero costituire semplicemente l'occasione per l'enunciazione del principio stesso così per esempio quando nello stesso 2017 con un'ordinanza alla 3218 della sesta sezione si è detto che il credito del professionista che ha predisposto la documentazione necessaria per l'ammissione al concordato non è prediucibile nel fallimento ove l'ammissione alla procedura minore sia stata revocata per atti di frode dei quali il professionista stesso sta a conoscenza posto che in tali ipotesi la prestazione svolta non è stata di alcuna utilità per la procedura è evidente che non è questa la ragione per cui non viene riconosciuta la prededuzione non si tratta di stabilire se è stata utile o non è stata utile si tratta di mettere in evidenza l'esistenza appunto della connessione con atti di frode mi pare di diciamo di poter dire Massimo del resto lo sa benissimo perché su queste cose siamo stati praticamente sempre insieme nel collegio l'attuale punto di approdo di questo itinerario si è fermato sul fatto di dover stabilire la funzionalità in relazione alla procedura di volta in volta presa in esame questo è il punto essenziale cioè non si può rivedere la funzionalità in ragione del fatto che poi è stato dichiarato il fallimento la posizione che si è arrivati ormai a definire in maniera netta e nella cui chiave per la verità si colloca anche la sentenza sugli accordi di ristrutturazione di cui sento sento evocare è questa cioè non insomma la Corte ha ritenuto e ritiene che la valutazione di funzionalità si fermi in relazione al rapporto intercorrente con la procedura minore non è necessario andare a rifare la verifica attraverso la determinazione del risultato ultimo laddove la procedura minore poi sia fallita questo è il ragionamento che in questo momento si è fatto e che lascia ovviamente aperte una serie di questioni che sono quelle in particolare relative alla sorte del credito preditucibile nel caso in cui la procedura minore non si apra affatto così come quella a cui accennava Fabiani del rapporto con la eccezione di inadempimento tutte questioni sulle quali la Corte non è intervenuta anche in considerazione del fatto che l'attuale tendenza della giurisprudenza della Corte è nel senso di non allargare diciamo il margine di intervento al di fuori di quelle che sono le specificità del caso e qui mi consentirete soltanto una chiosa sempre dal punto di vista generale si è nel tempo radicata una singolare tendenza a voler individuare nelle decisioni soltanto in alcune decisioni e in particolare con esclusione delle decisioni che provengono per esempio dalla sesta sezione civile la funzione nomofilattica che è una consentiremi di dire una totale sciocchezza anche se è stato il portato di interventi fatti anche da parte di alcuni autorevoli esponenti della Corte le decisioni della Corte hanno la loro rilevanza nomofilattica sia nel caso in cui tendano a voler costituire guida per future decisioni e quindi per garantire quella che viene chiamata nell'articolo 65 ordinamento giudiziario l'esatta osservanza l'uniforme interpretazione della legge del diritto oggettivo nazionale ma anche quelle che servono a stabilire l'esatta osservanza e allora anche una decisione come per esempio quella che prima ho menzionato della Sesta Civile e non peraltro che cassa una decisione che reputa in contrasto con un indirizzo interpretativo ha una sua funzione nomofilattica è la cosiddetta nomofilachia negativa che viene evocata da parte dei processualisti che cos'è la nomofilachia negativa? è quella che serve a eliminare la decisione sbagliata ora questo discorso che può apparire eccentrico rispetto alla questione della prediluzione invece ripeto costituisce una chiave di lettura di una certa rilevanza perché quando si parla di prediluzione ci si misura con concetti giuridici indeterminati e nei concetti giuridici indeterminati l'intervento della Corte dovrebbe così come nell'ultimo decennio è accaduto essere diciamo un intervento di tipo chirurgico cercare cioè di evitare di estendere l'ambito della valutazione al di fuori di quelle che sono le specificità del caso l'evoluzione di cui ho detto in termini di prediluzione si è fermata al punto che prima dicevo cioè alla verifica di funzionalità rispetto alla procedura minore alla quale la prestazione era funzionale proprio per questa ragione cioè si è ritenuto di non estendere con determinazioni che sarebbero state evidentemente degli obiter non estendere l'ambito di cognizione a quello che viceversa dovrebbe essere e sarà sicuramente sarà uno degli elementi di maggiore impatto cioè cosa accade se la procedura minore nonostante l'impegno del professionista che è stato svolto precedentemente nonostante il contratto pendente non si non si apre affatto e al tempo stesso in quale misura questa situazione poi viene a essere diciamo contigua con il principio per cui la prediluzione è diciamo come prima si diceva una qualità una variante della causa di prelazione diceva Fabiani su questo si può discutere ma comunque dà per presupposto l'esistenza di un credito e conseguentemente l'esistenza dove ciò dovesse essere alla base di una specifica contestazione dell'adempimento dell'onere della prova in ordine al fatto di essere in effetti creditore